Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video. Se un forte ritorno di pioggia e neve verso l'Italia nella tarda notte di oggi, martedì 28 febbraio 2023, la situazione si intensificherà ancora di più all'alba di mercoledì, e quindi, a partire dalle 4 o orologio della sera di oggi, martedì, inizieranno a cadere forti piogge sulle coste meridionali del Tirreno e anche su Sicilia e Sardegna con nevicate che cadranno a tarda notte sulle alture di Abruzzo e Lazio, la nuvolosità e la neve si intensificheranno più di mezzanotte di martedì e all'alba di domani mercoledì con pericolo di formazione di torrenti e alluvioni, e assisteremo a forti temporali di neve all'alba di mercoledì su Lazio, Abruzzo e Molise, per poi sfociare gradualmente verso il centro e nord, con tempo molto freddo e venti forti, quindi prudenza e prudenza le prossime ore sono d'obbligo, perché sta arrivando tempo forte verso sud, poi centro, e poi nord, e dettagli più precisi, restate sintonizzati per loro nelle prossime ore.